buongiorno a tutti benvenuti oggi per me è un grande piacere condurre questa questa questo webinar in cui parleremo di cos'è che questo progetto interdisciplinare che coinvolge varie figure come filosofi della scienza ricercatori nel campo medico e personale clinico cos'è appunto questo progetto che come obiettivo quello di generare un cambiamento in ambito clinico di ricerca e della politiche delle politiche sanitarie mettendo la singola persona al centro per tutte per tutte quelle implicazioni che riguardano le decisioni sanitarie e soprattutto per rendere più sostenibili questo progetto appunto progetto cos'è sta lavorando per migliorare il modo in cui il rapporto causa effetto delle evidenze scientifiche viene prodotto interpretato e applicato nelle scienze mediche e sanitarie e nella pratica e nella pratica clinica e tutto questo ovviamente in un'ottica di beneficio per il nostro per i per i nostri pazienti e attraverso strumenti quali la ricerca clinica l'educazione e ovviamente la comunicazione interdisciplinare tra le varie professioni protagoniste della cura della persona in questo webinar o l'onore di ospitare con me una delle direttrici di questo progetto la dottoressa Elena Rocca che insieme alla professoressa Rani Anjum appunto dirigono questo progetto la dottoressa Elena Rocca è una ricercatrice con un background assolutamente eclettico e molto interessante infatti si occupa in modo multidisciplinare di ricerca e non solo in particolare la sua esperienza per le sue esperienze pergresse sono in ambito farmacologico in medicina molecolare ed è specializzata anche in ambito filosofico specialmente per quanto riguarda le implicazioni dei bias filosofici nella scienza con particolare enfasi alla valutazione della causalità la valutazione del rischio e soprattutto per quanto riguarda il pluralismo metodologico della ricerca buongiorno Elena io mi permetterò di darmi del tu certo buongiorno Firas grazie mille dell'invito grazie a voi per aver partecipato per me davvero un grandissimo onore magari anticipo che la nostra una discussione molto ampia su questo progetto e le implicazioni che può avere e che può avere speriamo avrà in ambito appunto sanitario in particolare di ricerca e ambito clinico per quello che può interessare a noi fisioterapisti e parleremo prettamente di tre argomenti principali che sono appunto la filosofia della scienza che è un argomento che trovo veramente interessantissimo e molto rilevante e forse troppo poco stimato e considerato specialmente in ambito di ricerca aspetti rilevanti in relazione alla concettualizzazione del rapporto causa effetto eh nelle nostre nella quotidianità clinica ma anche appunto in ambito di ricerca e poi ovviamente eh un concetto ancora molto importante e veramente secondo me difficile da da affrontare che è quello appunto della complessità eh in tutto in tutti i campi che riguardano l'ambito sanitario bene perfetto quindi se tu sei d'accordo io partirei già con il primo col primo macro tema di di questa di questa chiacchierata e che appunto riguarda eh perché parliamo di filosofia in medicina e nella nostra pratica clinica e in particolare partirei con magari con una domanda se se tu sei d'accordo e forse la cosa eh più più utile è che una persona esperta come te in questo ambito magari ci presenti brevemente eh cosa intendiamo insomma con eh filosofia della medicina e e poi magari proseguiamo con la discussione sì sì grazie Firas dunque come tu hai spiegato nella tua introduzione grazie per fra l'altro per questa introduzione molto completa eh io non sono cioè la mia educazione di base non è come filosofa della scienza in realtà sono eh ho studiato come eh farmacista e poi eh come biologa molecolare quindi è un po' eh inusuale diciamo nel mondo accademico che io sia qui con te a parlarti di filosofia della scienza quindi vorrei partire da spiegarti come è successo tutto questo perché io sono qui adesso perché mi sono appassionata alla filosofia della scienza eh è successo abbastanza tardi nel mio diciamo nel mio corso nella mia carriera eh infatti mi è servito eh ci ho messo parecchio tempo a capire che eh non tutte le risposte o forse nessuna risposta anzi può essere data solamente dai fatti io ho avuto un'educazione in scienze naturali ho fatto un dottorato in scienze naturali fino a dopo il dottorato ero convinta che eh le risposte sono date dai fatti il motivo per cui non abbiamo tutte le risposte che non sappiamo tutti i fatti eh fino a che non non mi è successo che durante un una ricerca che ho condotto sulle eh sulle gli effetti collaterali delle proteine geneticamente modificate che si assumono con il cibo eh mi sono trovata in una situazione in cui eh vedevo che eh l'evidenza era comune era la stessa eppure eh scienziati eh avevano diverse opinioni sul fatto che questa evidenza fosse abbastanza per eh assicurare la sicurezza o meno di queste proteine e questa per me è stata abbastanza una ehm un ha ha un'illuminazione sai quei ha ha moment quando dice ah ma allora se davvero fosse così che i fatti rispondono a tutto se abbiamo gli stessi fatti dovremmo avere la stessa opinione com'è questo discorso come mai succede e quindi ho cominciato a interessarmi di filosofia della scienza perché è questo che la filosofia fa la filosofia si occupa di quello che i fatti non dove i fatti non possono arrivare quindi se con gli stessi fatti arriviamo a diverse valutazioni vuol dire che c'è qualcosa al di là dei fatti che ci influenza è di questo che ho cominciato ho cominciato a appassionarmi a a queste domande e e da lì è cominciata tutta la storia perché una volta iniziata è difficile è difficile lasciare questo questo campo che è molto estremamente interessante poi se ne trovano più vai avanti e più ne trovi di queste alla fine è tutto così ti rendi conto che ehm che alla fine c'è un un overlapping di vari strati di assunzione di base eccetera e infatti sono solo una una fetta di questo il problema è che nel nella pratica medica ma anche nella politica medica e nella ricerca c'è un un focus ci focalizziamo sui fatti e non su queste assunzioni di base non se ne parla molto no e non se ne parla nella ricerca non se ne parla della pratica e anche non se ne parla nei media al a volte ma ma sono 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 eh cosa molto rare eh ok quindi è quello che abbiamo fatto eh quando sono quando ho conosciuto ho conosciuto Rani ehm abbiamo fondato un centro si chiama Center for Applied Philosophy of Science dove eh parliamo di queste questi questi assunti queste assunzioni di base e eh cerchiamo però di parlarne a persone che eh non non vengono dalla filosofia della scienza perché i filosofi della scienza queste cose le sanno eh cioè sono mh cose scontate mentre eh scienziati ricercatori eh persone che che sia che usano la scienza nel loro lavoro come ad esempio eh personale medico sanitario ma non solo non ne hanno mai sentito parlare quindi abbiamo fatto una nostra missione cercare di eh parlare del fatto che quando diciamo causa effetto io e te possiamo dire causa effetto è una parola comune ma in realtà quello che intendiamo sono due cose differenti e eh cerchiamo appunto di coinvolgere eh prima di tutto le persone del nostro campus universitario ma anche in tutta la Norvegia e anche internazionalmente perché appunto eh siamo basate in Norvegia a sud di Oslo eh in questo Center for Applied Philosophy of Science e uno dei progetti che abbiamo è quello che tu hai nominato COSELT. In COSELT parliamo del concetto di causalità e eh di come eh il concetto di causalità è interpretato in maniera differenza nelle scienze e nella pratica medica eh abbiamo questo è il logo di COSELT che si vede anche nel nostro libro ehm di cui parleremo fra poco sì di cui parleremo fra poco ehm e parliamo eh ad esempio che cosa ad esempio che cosa conti come che cosa che cos'è che cosa conta come evidenza in campo medico come viene ottenuta eh e come mai ci sono delle tensioni tra diverse discipline all'interno della scienza medica come mai ci sono delle delle tensioni a proposito di quale sia il metodo migliore per trovare un rapporto di causa effetto. Chiaro chiaro beh io ovviamente eh ne approfitto eh per ringraziarti per la presentazione per rimarcare il fatto come insomma è un onore che un'eccellenza italiana eh in un'altra internazione come purtroppo spesso avviene insomma è direttamente coinvolta se non principalmente coinvolta in un progetto così importante e grande quindi grazie davvero infinitamente per quello che fai e per e per aver accettato l'invito. Grazie a te. È molto molto interessante il il concetto di filosofia che credo e magari qui correggimi che è un qualcosa che è anche se non ne parliamo ma è estremamente insito in tutto quello che facciamo e e la storia stessa della filosofia poi porta ovviamente anche i tempi anche moderni eh e il il risultato di questo pensiero filosofico porta poi ovviamente per esempio se parliamo di scienza implicazioni eh anche pratiche eh e quotidiane eh di questi assunti come eh li hai definiti però eh hai detto anche un'altra parola che è molto importante che secondo me ehm magari approfondiamo un pochettino e appunto quindi ti chiedo se puoi dettagliare un pochettino di più cosa intendiamo esattamente con tensioni e magari sarebbe eh anche utile se riuscissi a correlarci qualche esempio di di appunto di tensione tra le varie discipline e come questo eh abbia a che fare poi magari con concetti estratti come ad esempio la causalità che insomma è un pochettino il tema eh che guida sì questo webinar ma un pochettino mi sembra di capire anche tutto il progetto sì certo guarda eh in questo momento storico eh la domanda è particolarmente facile perché eh veniamo da due anni un anno e mezzo di eh pandemia in cui abbiamo visto eh esperti eh diciamo eh perfino litigare pubblicamente vorrei dire nei nei media ma anche in in giornali accademici ci sono state cose controversie su che cosa sia quali sia il metodo migliore per eh per capire la eh i rapporti causa effetto no e riguardo al covid diciannove fare potrei fare l'esempio ad esempio della eh dibattito sulla mascherina l'uso della mascherina è è utile o no per bloccare il diffondersi dell'infezione eh abbiamo visto che questo dibattito è iniziato dal eh inizio in Italia e in Europa direi dall'inizio del duemila e venti e continuo ancora adesso perché nel frattempo ci sono stati degli sviluppi anche nella teoria di come il virus si diffonde adesso c'è la teoria dell'aerosol e e questo influenza anche quello che noi pensiamo su come la mascherina funzioni però se pensiamo all'inizio del dibattito cioè all'inizio eh si è pensato ok non vogliamo che il virus si diffonde usiamo la mascherina la mascherina è stata introdotta molto eh presto in Italia rispetto ad altri paesi eh europei in Norvegia è stata introdotta quasi direi alla fine del del duemila e venti e solo per alcuni mesi in altri paesi non è stata introdotta e ci sono stati eh dibattiti fra esperti perché il problema è che eh molti esperti hanno hanno ehm espresso che non ci sono dati sufficienti per giustificare il fatto che l'uso della mascherina sia efficace per bloccare la la diffusione del virus quindi l'evidenza non è eh non è un'evidenza su cui si può di cui ci possiamo fidare reliability si dice cioè non c'è questo valore che si chiama reliability c'è non è una cosa di cui ci possiamo fidare però eh che cosa eh che cosa intendono quando dicono così eh quello che intendono dire è che non ci sono degli studi controllati che possono dimostrare che il gruppo sperimentale cioè il gruppo che porta la mascherina si ammala di covid o si ammala di coronavirus perché ovviamente non si possono avere a quel tempo non si possono avere gruppi eh esperimenti con il covid cioè se ci si riferiva a esperimenti con altri coronavirus quindi non ci sono eh esperimenti che ti dimostrano che c'è una differenza fra il gruppo sperimentale e il gruppo che non ha la mascherina e questo eh sta a significare che eh è direttamente collegato a che cosa noi consideriamo sia una causa perché se noi diciamo che se non abbiamo uno studio controllato non abbiamo un'evidenza di causalità vuol dire che pensiamo che una causa è è una cosa che faccia la differenza ora questa sembra una cosa scontata eh a livello così colloquiale ovviamente la causa è una cosa che fa una differenza in realtà questa è una teoria filosofica molto robusta eh e diciamo la più affermata eh quella che a tutti viene in mente e di sicuro la più usata in campo scientifico eh la difference making theory accusation vuol dire la la teoria per cui la causa è una cosa che fa la differenza e ci porta a pensare che se non abbiamo un esperimento controllato non possiamo vedere questa differenza però altri eh esperti hanno eh opposto questa questa visione hanno detto sì però eh non ci sono esperienze controllate però prima di tutto che cosa ci direbbero siamo adesso in una situazione in cui un esperimento controllato veramente può funzionare primo e secondo c'è una logica eh per cui possiamo pensare a una logica per cui eh la mascherina funzioni anche se non abbiamo esperimenti al momento cioè sappiamo come il virus si diffonde al tempo poi sono cambiate le cose però questo era questo era il discorso del tempo cioè sappiamo come il virus si diffonde sappiamo come la mascherina funziona e quindi ehm e quindi possiamo dire che abbiamo un'idea che la mascherina funzioni questa è una una visione diversa sulla causalità che è basata sul meccanismo cioè una causa è qualcosa che eh produce un effetto tramite il suo meccanismo se uno ha questa questo assunto di base sulla causalità cercherà prima di tutto di eh vedere se ci sono evidenze ovviamente si parla sempre di evidenza non è che sia una cosa puramente teorica però hai evidenza che c'è un certo meccanismo per cui il virus con cui il virus si diffonde hai evidenza di come funziona la mascherina bene quindi è evidenza di un meccanismo e questo ti dà eh eh diventa il metodo eh preponderante il metodo che tu preferisci per ehm per dimostrare che c'è causa effetto ovviamente questa disputa è sempre stata a livello di metodologia non è mai stata a livello di eh di che cosa di di assunti di base cioè siamo noi eh filosofi della scienza o nel nostro progetto che abbiamo detto sì c'è questa disputa ma in realtà quello in cui stanno litigando veramente è quello che loro pensano che sia una causa chiaro 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 wow andiamo eh tanti concetti molto molto interessante e ok quindi magari ci puoi spiegare anche perché questo progetto appunto cause health health perdonatemi sostiene appunto quindi che le scienze mediche e la pratica clinica stessa in ambito sanitario ehm abbia quindi bisogno eh di riflessioni filosofiche e eh poi magari ne approfitto eh eh tanti contenuti di cui parleremo oggi comunque se qualcuno volesse fare un approfondimento consiglio fortemente assolutamente il il libro eh che appunto il progetto con cause health che è stato eh redatto sia da Elena da Rani e dalla prof Rani Anjum e Samantha Copeland eh un libro veramente eh molto interessante libro che è open access quindi è eh scaricabile gratuitamente eh magari se eh Elena sei d'accordo e mi dai il permesso eh sotto nei commenti del di questa di questo video metterò magari il link per permettere a chi volesse insomma leggerlo di andare a direttamente a scaricarlo e magari io se se voi siete d'accordo potremmo andare anche a una newsletter eh per invitare i colleghi o chi comunque fosse interessato eh di insomma sfruttare questa risorsa gratuita eh è un'opportunità che penso che tutti insomma debbono conoscere e avere eh la possibilità di insomma leggerlo e approfondire questo tema che come vedremo oggi è molto è molto più rilevante anche nella nostra quotidianità clinica di quanto pensiamo. Certamente grazie noi l'abbiamo fatto eh il consiglio di ricerca norvegese ha pagato le spese per l'open access appunto perché eh vogliamo che sia una risorsa libera, aperta e il nostro scopo appunto noi pensiamo che il nostro lavoro migliori alla fine possa migliorare la pratica medica quindi appunto più più accessibile e più felice ne siamo. Quindi grazie. Certo, certo. Grazie a voi. Tu mi chiedi come mai noi pensiamo che la filosofia abbia qualcosa a che fare con la pratica e la ricerca medica perché pensiamo che bisogna parlarne beh eh prima di tutto eh non è che eh la filosofia è onnipresente eh e e in medicina eh però è anche data per scontata cioè non se ne parla perché è una cosa che è lì e c'è sempre stata eh sotto sotto e nella maggior parte del tempo la maggior parte del tempo non abbiamo bisogno di parlarne. Un esempio è ad esempio la ehm il dualismo corpo mente che è una un'idea filosofica introdotta da Cartesio eh perché diciamo che è una cosa filosofica perché non c'è eh quando diciamo che un'idea è filosofica vuol dire che non è non è una cosa che si può dimostrare con eh l'evidenza con i fatti è una cosa che eh non si dimostra si può ehm argomentare ma ci sono sempre delle ehm delle alternative delle argomentazioni alternative sì questa è la filosofia mentre quando si parla di scienza si parla di una cosa che eh è basata eh si può ehm dimostrare con i fatti in qualche modo ok quindi il dualismo corpo mente è un'idea che è stata introdotta un'idea molto molto ehm influente potente eh convincente eh e via dicendo eh che permea tutto il nostro modo di pensare il modo che noi dobbiamo di pensare della persona umana e anche il modo in cui la ricerca medica e la pratica medica sono organizzate perché abbiamo la 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 le cure psichiatriche e le cure eh fisiche cioè le cure psichiatriche sono separate da tutto il resto. Certo e questo proprio dimostrazione del fatto come poi il pensiero filosofico anche se ormai superato influenzi ad oggi ancora probabilmente come concettualizziamo la realtà o in questo caso l'approccio per esempio la cura della persona. Certo e questo è solo uno degli esempi è un esempio molto ehm diciamo che che molti possono riconoscere perché abbiamo tutti sentito parlare di questo dualismo corpo mente il problema è che eh c'è il problema non è un problema il fatto diciamo è che eh quando siamo dentro un paradigma e Kuhn è stato il primo filosofo a parlare di paradigmi eh Kuhn è un altro filosofo che è in scienza eh uno dei pochi filosofi di cui gli scienziati di solito hanno sentito parlare Kuhn ha detto che quando siamo eh dentro un paradigma che è accettato da tutti non abbiamo bisogno di parlare di questi assunti di di queste idee di base perché ci muoviamo all'interno di queste idee di base e riusciamo a trovare una soluzione a tutti i problemi che ci che ci presenti ci si presentano quindi non ne parliamo e e non non ce ne rendiamo neanche conto di questa idea che abbiamo adottato e questa lui la chiama scienza normale a un certo punto però lui dice succede qualcosa un nuovo problema qualcosa che da cui non riusciamo a rispondere per cui il paradigma non funziona più cioè c'è qualcosa che non funziona allora è quando è il periodo di crisi lui dice il periodo in cui si comincia a parlare di queste assunzioni di base filosofiche e si comincia improvvisamente a dire ah ok quindi ad esempio noi però assumiamo che ci sia un dualismo corpo mente e se per caso non ci fosse c'è quest'altra alternativa lui Kuhn dice che quando cominciamo a parlare di filosofia è il momento in cui c'è una crisi c'è un problema che non si riesce a risolvere ad esempio il problema potrebbe essere il l'insorgere di molte malattie nella vita moderna a cui non possiamo trovare una risposta veramente fisica o una risposta psicologica in realtà non abbiamo non abbiamo una spiegazione in questo dualismo dobbiamo pensare che forse c'è qualcosa che che unisce il corpo la mente e non riusciamo a trovare una risposta nel nostro paradigma quello che noi diciamo è che anche se siamo all'interno di un paradigma abbiamo bisogno di eh renderci conto di questi eh assunti di base queste assunzioni di base perché per vari motivi di cui eh parleremo anche dopo soprattutto perché eh le nostre assunzioni di base quello che noi pensiamo eh sia una causa quello che noi eh intendiamo quando diciamo complesso quello che intendiamo quando diciamo rischio probabilità eh influenzano eh quello che noi poi facciamo come eh scienziati o come eh personale clinico quello che noi pensiamo sia la pratica migliore quindi un conto è farlo senza sapere perché lo facciamo e un altro discorso è quando eh facciamo le nostre scelte sapendo da come sono motivate possiamo mh eh avere una pratica più matura una ricerca più matura sappiamo che cosa su cosa si fondano e possiamo anche eh difenderle o criticarle eh abbiamo trovato anche un nome eh allora questo discorso degli assunti di base è un una cosa che in filosofia si dice non so neanche da quanto in realtà cioè penso da sempre non non è assolutamente non è assolutamente una novità da tempo immemora da tempo immemora e quello che noi abbiamo fatto stiamo cercando di fare è portare questo discorso al di fuori delle cerchi filosofiche cercare di comunicare al di fuori quindi della filosofia dei filosofi della scienza e come metodo per comunicare abbiamo anche coniato un nuovo termine diciamo che parliamo di bias filosofici allora un bias in inglese eh è un errore sistematico qualcosa che tu eh fai nel tuo esperimento ad esempio quando eh selezioni solamente un tipo di di personale di di paziente oppure quando vuoi confermare i tuoi risultati quindi vedi sempre i tuoi risultati come una conferma della tua idea eccetera questi sono errori sistematici che nella scienza si cerca di diminuire per avere un risultato sempre più oggettivo noi diciamo che esistono anche degli altri bias che sono filosofici e li chiamiamo bias perché eh chiamiamo bias eh l'acronimo di basic implicit assumptions in science che sarebbe poi vedrebbe fuori bias è come un errore è come un bias perché eh influenza tutto il decorso della del processo scientifico cioè se tu pensi che la causa sia qualcosa che fa la differenza influenza quello che tu come tu eh ti muoverai quando vuoi cercare causa effetto influenza come tu guarderai il tuo paziente cercherai eh la l'intervento eh migliore per il tuo paziente eccetera e quindi è eh è un bias in questo senso ma è un bias che eh non si può togliere cioè eh da qualche parte bisogna iniziare cioè tu non si può eh fare niente non si può fare scienza non si può fare pratica basata sulla scienza se non si ha un assunto di base l'unica cosa che possiamo fare con un assunto di base è esplicitarlo analizzarlo e eh capire se è l'assunto che fa per noi se abbiamo una giustificazione o se eh è il caso di ehm di criticarlo e di e di guardare di cercare delle alternative ehm questi bias filosofici possono essere di vari tipi cioè noi possiamo avere diverse idee su che cosa sia il modo migliore per descrivere la realtà ad esempio possiamo dire eh posso fare degli esempi che sono più filosofici dopo però comunque solo per dire che possiamo avere diverse idee di come descrivere la realtà diverse idee su come si può conoscere la realtà quale sia il migliore modo di conoscere e diverse idee su che cosa sia la cosa migliore da fare quindi quando il primo tipo c'è idee su che cosa cos'è la realtà come si descrive la realtà si chiama ontologia sono bias ontologici diverse idee su come posso conoscere la realtà cioè qual è il modo migliore cioè il modo migliore per conoscere un fenomeno è raccogliere tanti dati oppure il modo migliore è fare esperimenti eh questi sono bias epistemologici e poi ci sono i bias su eh che cosa che cosa cos'è la cosa giusta da fare questi sono bias etici e noi diciamo che ce ne sono sempre ci sono di tutti e tre i tipi e sono anche interrelati ci sono diversi eh strati e sono sempre correlati cioè non c'è un bias non c'è molto 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 interessante e appunto ancora di più dimostra come eh alla fine il 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 bias filosofico che noi abbiamo alla base ovviamente determinerà poi tutto quello che noi faremo sia dalla interpretazione della realtà sia per i modi con cui noi possiamo andare ad interpretarla e sia poi ovviamente come poi magari andremo ad interagire con essa e questa è sicuramente una delle parti che un pochettino di più mi ha mi ha aperto eh un un modo nuovo di interpretare insomma anche le conoscenze attuali che abbiamo e magari eh non so possiamo provare a dare altri esempi un po' più concreti di diversi bias eh nel nostro contesto quindi nella pratica clinica Elena sì possiamo provare ad esempio eh una cosa molto concreta eh quando eh un eh un medico dice a un paziente eh discute con il paziente il tipo di intervento diciamo parliamo di intervento farmacologico potrebbe essere qualsiasi cosa il tipo di di farmaco che deve assumere il paziente eh chiede ma ehm che probabilità ho di eh guarire o di migliorare con questo farmaco e il medico dice no buone probabilità hai buone più del cinquanta per cento cioè hai buone probabilità diciamo che dà anche un numero può dare anche una evoluzione numerica io direi che è l'ottanta per cento di probabilità di di migliorare ok che cosa vuol dire dunque eh se noi cerchiamo di capire che cosa vuol dire la probabilità eh questo è un concetto che eh una cosa che non ci chiediamo mai no però quando ci chiediamo che cosa vuol dire non è eh così semplice e non è non c'è una sola risposta ce ne sono almeno tre la prima eh la prima risposta è che il medico dice che eh ha visto altri cento pazienti che sono simili a Elena ad esempio altri cento donne di mezza età nella mia condizione e di queste circa ottanta sono migliorate eh questo è eh una particolare visione è un bias filosofico della eh del concetto di probabilità che si chiama frequentismo ed è quel concetto per cui la probabilità è data da eh la con il il conteggio di cosa è successo in precedenza cioè tu decidi eh la probabilità prevedi fai una previsione su che cosa succede la prossima volta contando numericamente che cosa è successo in le volte precedenti che sono simili è una un concetto che si fonda su varie ha una storia eccetera di cui adesso non parlo comunque è un tipo di ehm di di ha un significato però potrebbe voler dire anche guarda sono ottanta per cento sicuro che eh tu migliorerai in questo caso la probabilità è una misura della confidenza di quanto eh il medico sia sicuro di quello che sta dicendo cioè vuol dire che il medico ha eh varia evidenza di x tipo che noi non sappiamo che potrebbe dirci cioè potrebbe avere degli studi clinici potrebbe avere esperienze con degli altri pazienti potrebbe avere conoscenze teoriche eh conoscenze del tipo di di meccanismo che sta succedendo nel mio corpo e del tipo di meccanismo del farmaco e tutta questa evidenza insieme lo rendono ottanta per cento convinto che eh che funzionerà queste sono due cose diverse no? Un in un eh nel secondo caso il medico mi sta dicendo quanto lui eh sa eh c'è anche un terzo che eh può voler dire che eh la tua predisposizione sono l'ottanta per cento eh la tua predisposizione come persona come paziente eh come contesto sociale eh come fisicità eccetera eh e la predisposizione del farmaco hanno l'ottanta per cento di probabilità di funzionare insieme quindi eh è un concetto di probabilità più qualitativo cioè meno numerico più qualitativo è basato sulle propensioni cioè so che la tu come paziente ti conosco so ho tutti i tuoi dati questi esami che abbiamo fatto eccetera e vedo che la tua propensione mi dice che è l'ottanta per cento. Ok queste sono tre cose diverse perché il paziente non si sa che cosa il paziente abbia capito però eh farà domande diverse. Ad esempio se ho capito che eh ottanta persone sono sono guarite magari potrei chiedermi ok ma io sono eh come sono rispetto rispetto agli altri pazienti oppure potrei chiedermi perché sei l'ottanta per cento convinto che funziona quali quali sono quali la la l'evidenza su cui ti basi oppure ehm conosci se nel terzo tipo la cosa della predisposizione cioè mi conosci veramente sei sicuro che la mia predisposizione sia quella che tu pensi quindi vedi che dietro un termine solo un termine ci sono almeno tre poi sicuramente i filosofi ne troverebbero altre sì e questo secondo me è molto interessante perché poi dimmi se sbaglio questo è il mio pensiero quindi portandolo magari faccio anche una considerazione se se me lo permetti Elena certo perché anche qua da noi per esempio in Italia c'è una gossa di atriba dove eh qualcuno basa eh la conoscenza o comunque le decisioni cliniche sulla propria expertise quindi quello che eh vede quotidianamente in pratica clinica altri invece si rifanno esclusivamente eh alle evidenze per esempio estratte da studi eh scientifici come possono essere se parliamo di causa effetto i trial clinici randomizzati e eh secondo me il il ragionamento alla base di questo e sicuramente poi più tardi ne parleremo è proprio il fatto che in realtà non sono due eh entità dicotomiche ma sono due modalità differenti di interpretare la realtà e ognuna di questo ovviamente dà una risposta di di un certo tipo in in base ovviamente al all'assunto che c'è alla base di di questa osservazione di non so se perfetto allora questo è quello che noi diciamo è una delle delle idee base di cos'è in cui diciamo che ma ne parleremo esatto e sono sicuro di aver compreso quello che ho letto allora ti ringrazio per la conferma va bene io direi eh possiamo chiudere qua il primo macro capitolo che eh in cui abbiamo introdotto un pochettino eh la filosofia in particolare la filosofia della scienza e sicuramente un aspetto eh molto a me molto bello per me è molto interessante che sono i bias filosofici e magari se tu sei d'accordo eh invito a cercare comunque in letteratura articoli tuoi e della professoressa Anjum comunque avete anche pubblicato vari a parte libro vari articoli su questo tema e sono letture veramente interessanti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti